Radio Radicale, siamo con il senatore Manfredi Potenti, eletto vicepresidente dell'Aggiunta delle Immunità delle Elezioni del Senato. Allora, comandata, quanti voti ha ottenuto il presidente Dario Franceschini? Sì, abbiamo eletto l'ufficio di presidenza, mi onoro di far parte appunto in qualità di vicepresidente insieme al senatore Scalfarotto di questa giunta. Abbiamo poi eletto anche i segretari e a questo punto siamo a disposizione anche di questa attività che peraltro è un organo che si occupa in Autodichia delle attività di sbrigo, di vicende interne fondamentalmente, e quindi di tutto ciò che ha a che fare con questioni afferenti quindi alla elezione, quindi all'applicazione del regolamento e poi di vicende che afferiscono chiaramente alle cosiddette più conosciute e note autorizzazioni a procedere. Se è soddisfatto del quadro del cash fuori dell'Aggiunta delle Immunità delle Elezioni, mi sembra che sia il presidente che i vicepresidenti siano tutti garantisti. Sì, assolutamente, peraltro ho avuto anche apprezzamento per quanto ha detto il neopresidente Franceschini, in quanto ha ricordato che diversamente dall'Assemblea o dalle altre commissioni nelle quali solitamente si riflette anche una certa appartenenza politica, la modalità con la quale vorrà garantire il funzionamento di questa piccola assise e sarà quello di limitare per quanto possibile le appartenenze, questo poi è umano, che ci saranno dei momenti in cui questo potrà in qualche modo anche pesare, ma ho avuto sicuramente una buona impressione dalla stessa prima... È rimasto sorpreso che il Movimento 5 Stelle, che considera questa giunta importantissima, non abbia presentato un candidato? Oppure loro hanno già un accordo per un'altra... Non lo so, ma comunque non mi esprimo, è chiaro che rispetto... Per loro poteva essere appetibile questa giunta, considerando quello che è successo alla scorsa legislatura su Salvini? Beh, certamente sì e altrettanto certamente mi sembra una buona cosa, ecco che chi comunque rappresenterà anche un po' l'organismo nell'ufficio di presidenza possa comunque sia raccogliere quelle sensibilità che vadano ovviamente oltre a queste, diciamo, accredini che ci sono state, che dicevo appunto dipendono anche da un'appartenenza politica, che mi pare di aver capito il neopresidente voglia escludere come modalità di conduzione dei lavori di questa delicata giunta che ricordiamolo, insomma, tratta di vicende che afferiscono anche ai componenti stessi del Senato, quindi andremo a trattare questioni personali e comunque di coinvolgimento anche privato delle attività dei nostri colleghi. Siete in 19, quindi mancano uno o due, diventa un bel caso politico? Beh, sì, il regolamento ora prevede appunto il numero in 19, ci sono dei problemi chiaramente che dovremo affrontare per la riduzione... Quanto è lo scarto della maggioranza opposizione qui? Beh, qui insomma mi sembra minimale, insomma, siamo su due, unici, unici, unici... Quindi uno si ammala, c'ha l'influenza e l'altro c'ha la righietta d'arresto... E' abbastanza... è abbastanza... diciamo che la situazione, insomma, porteremo morti e feriti, insomma, al voto, no, a parte gli scherzi, ci sono situazioni più delicate come quelle delle commissioni permanenti nelle quali lo scarto è di uno, quindi... Senta, chi fa il presidente nel caso di impedimento lo fa Scalfarotto? O lo fai tu? E beh, questo ora, insomma, vedremo, insomma, se non da dei casi, comunque io per il momento, insomma, sono a piena disposizione, speriamo, insomma, il presidente goda sempre di presenza e ottima salute, e altrettanto, insomma, lo diremo di noi, comunque, ecco, con il vicepresidente Scalfarotto, certamente, insomma, daremo il supporto che l'istituzione richiede in tutte le varie situazioni. Avete anche stilato un programma oppure vi rivedrete la prossima settimana? No, dovremmo... Perché c'era stato qualche caso, ma forse meno per il Senato, per la giunta delle elezioni, le contestazioni sul flipper, ma non al Senato. No, qui fortunatamente non sembra, ecco, che ci siano attualmente delle criticità di quel genere, di là effettivamente abbiamo assistito, insomma, a delle particolari difficoltà nell'individuazione degli eletti, proprio a diversi giorni ormai dal voto, il sistema è diverso, fortunatamente, insomma, anche per la riduzione del numero al Senato e per il metodo elettorale, questo ha escluso questa serie di, veramente, insomma, di imbarazzanti situazioni, perché alcuni colleghi, ricordo, fra i tanti Gianni Tonelli, insomma, addirittura avevano già certezza di essere eletti, poi sono stati invece... Quindi, qua, ecco, dovremo poi ritrovarci in settimana prossima e vedremo, ecco, quali saranno gli ordini dei lavori. Complimenti. Grazie. Grazie a Manfredi Potenti. Grazie sempre al vostro servizio puntuale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.